Sondrio è pronta ad accogliere l'arte della recitazione internazionale con l'allestimento dell'opera Scaramouche. Grazie all'iniziativa dei giovanissimi studenti del teatro incontro, sarà Carlo Boso, celebre arlecchino di fama internazionale, a calcare il palco del teatro sociale il prossimo 3 maggio. Galeotto fu l'incontro tra i giovani attori e il celebre maestro, avvenuto a Siracusa lo scorso anno, in occasione del festival dedicato al dramma antico. Carlo Boso presentava lì un suo spettacolo con i suoi allievi dell'AIDAS, ovviamente allievi professionisti, e quindi gli hanno chiesto di incontrarlo e c'è stato un bellissimo incontro tra i nostri studenti valtellinesi e Carlo Boso che ha promesso a loro di venire qui in Valtellina. Quindi i nostri giovani si sono sbilanciati, hanno chiesto a lui fortemente di venire in Valtellina, l'idea è stata bellissima e noi, Associazione Spartiacqua e Rete di Scuola, ci siamo messi all'opera per rendere possibile e per seguire la voglia di questi studenti che hanno voluto Carlo Boso in questa valle. Nove istituti oltre 1100 studenti provenienti da tutta la provincia avranno modo di partecipare alla mattinè allestita da Boso e dagli artisti della compagnia Prisma Teatro. Grazie ad una sapiente alternanza tra recitazione e didattica i ragazzi potranno affrontare l'evoluzione del concetto di maschera, dagli albori della Grecia classica fino al teatro moderno e contemporaneo. Che è di fatto una commedia, una lezione spettacolo più precisamente sulla maschera, quindi andiamo alle radici del teatro, sulla maschera che rappresenta la costituzione stessa del teatro. La sera poi il teatro sociale aprirà le proprie porte all'intera cittadinanza, pochi però i posti ancora disponibili per poter assistere a Scaramouche. Merito del tutto esaurito l'impegno degli attori del gruppo Teatro Incontro che, non paghi di aver reso possibile l'arrivo di Boso a Sondrio, hanno aderito al progetto Porta Due Amici a Teatro. Gli studenti di Teatro Incontro che hanno invitato Boso qui si sono ulteriormente impegnati promuovendo un progetto speciale che si chiama Porta Due Amici a Teatro, quindi ciascuno di loro si è messo anche in moto per portare amici e conoscenti a teatro per la serata che era il momento più difficile perché durante le mattinate i dirigenti avevano già organizzato tutte le scolaresche ma per la sera non era semplice perché portare un teatro sociale molto grande invece grazie all'aiuto e al sostegno e all'impegno di questi ragazzi riusciamo a fare anche la serata per il pubblico.